Ben ritrovati amici telespettatori, si svolgeranno martedì 31 ottobre. I funerali della dottoressa Wanda Poltavska, morta a Cracovia, alla soglia del raggiungimento del centoduesimo anno di età. Il giorno dopo la morte, tutto il mondo polacco si è praticamente interessato di questa scomparsa. Abbiamo la possibilità di vedere alcuni siti polacchi che annunciavano la morte della dottoressa, che era molto nota, molto amata in tutta la Polonia e stimata soprattutto per le sue battaglie in favore della difesa della vita, dal suo concepimento fino alla morte naturale e in difesa dell'istituzione della famiglia. La dottoressa Wanda Poltavska è stata una stretta collaboratrice di Giovanni Paolo II fin dai tempi in cui lui era un semplice sacerdote, poi durante il periodo dell'Episcopato a Cracovia, ma anche durante il suo pontificato. miracolata per intercessioni di padre Pio nel 1962, è tornata diverse volte a San Giovanni Rotondo dopo aver incontrato per una volta padre Pio nel 1967, divenendo anche amica dei frati. E i frati erano stati a Cracovia due anni fa, proprio in occasione del suo centesimo compleanno. Abbiamo una foto che ritrae la dottoressa Poltavska insieme ad una delegazione di frati a casa sua dopo la messa che è stata presieduta all'interno della Basilica di Santa Maria a pochi passi dall'abitazione della dottoressa Poltavska per appunto festeggiare e ringraziare il Signore per i suoi cento anni. Nella stessa chiesa, in Piazza Mercato, quindi a pochi passi dall'abitazione della dottoressa, il 31 ottobre, quindi l'ultimo giorno del mese, martedì prossimo, verranno celebrati i funerali che saranno funerali di Stato. Come ho detto, l'intera nazione polacca ha un ricordo davvero vivo e importante della dottoressa Poltavska e per questo già nel 2021, in occasione appunto del centesimo anno della dottoressa, del centesimo compleanno, il Presidente della Repubblica, 24 ore prima del nostro arrivo a casa della dottoressa, si era anche lui reso presente nell'abitazione di questa donna di grande spessore umano e culturale per farle personalmente gli auguri e alla messa che si è svolta sempre nel 2021 nella Chiesa di Santa Maria era presente tra gli altri anche la Presidente della Camera. Questo è dunque il motivo per cui i funerali saranno funerali di Stato. Ha avuto anche un eco in Italia la morte della dottoressa Poltavska, oggi a pagina 22 del quotidiano Avvenire ci sono due articoli dedicati a lei, il primo intitolato in taglio medio Vanda Poltavska per mezzo secolo accanto a Wojtyla, prete e poi Papa e poi c'è un altro articolo che proprio mette a fuoco il miracolo che lei ha ottenuto nel 1962 per intercessione di Padre Pio, le sue lettere a Padre Pio per il mio cancro. Vogliamo ricordare questa vicenda che risale al 1962, la dottoressa Poltavska poco prima della partenza di Monsignor Karol Witiu all'epoca vescovo ausiliare di Cracovia per il Concilio Vaticano II scoprì di avere un cancro all'intestino e questa malattia avrebbe dovuto comportare un intervento chirurgico. Wojtyla fu avvisato di questa situazione abbastanza critica anche perché i medici non davano molte speranze e pensò di scrivere una lettera a Padre Pio da Roma, dal Concilio, una lettera datata 17 novembre 1962 in cui chiedeva a Padre Pio di pregare per una giovane donna madre di quattro figli e in grave pericolo di vita per un cancro. Questa lettera fu recapitata a Padre Pio dal commendatore Angelo Battisti e nel ricevere la lettera e nell'ascoltare il contenuto, Padre Pio replicò a questo non si può dire di no. La dottoressa il giorno prima di essere sottoposta all'intervento andò nuovamente in radiologia per una nuova lastra che rivelò che la massa che prima era evidente e presente era scomparsa. La dottoressa a quel punto, quando fu avvisata che non c'era più bisogno dell'intervento, che tutto era sparito, pensò, avendogli il chirurgo detto che al 95% si tratta di un cancro e al 5% si tratta di un'infezione, pensò che in realtà si era trattata un'infezione che si era risolta in maniera spontanea. Ma soltanto cinque anni dopo, nel 1967, lei capì che quanto gli aveva poi raccontato il suo amico arcivescovo Karol Waitiwa era vero e cioè che Padre Pio era intervenuto con le sue preghiere per salvarla dal cancro. Sentiamo il racconto di come lei ha avuto la certezza di essere stata miracolata attraverso un'intervista che lei mi ha rilasciato nel lontano 21 febbraio del 2002. Ascoltiamo. Senta, anni dopo io avevo problemi della Palogna, in questo tempo andare fuori è stato molto difficile perché i passaporti riceveranno solo partiti del Partito Comunista, allora io non potevo viaggiare. Ma perché avevo quante complicazioni con il mio vertebre cervicale dopo l'intervento che avevo, non intervento, ma accidente a campo concentramento, sono costretto ad andare all'America per intervento chirurgico e mi hanno detto in tale occasione passaporto. Allora ho approfittato, ritornando di America mi è fermato perché avevo un biletto intorno del mondo, perché da Cracovia a Honolulu dove è stato il mio chirurgo, girato intorno, io ho fermato a Roma. In questo tempo a Roma è stato anche il vescovo Karol Wojtyla e mi ha suddirito, vai adesso a Padre Pio, approfitta di questo. Si ricorda che anno era? Sì, 67, maggio. E io non conoscevo neanche lingua italiana, né italiani, ma c'è una sorella feliciana, adesso morta già tanto tempo, suor Maximiliana che mi ha portata qui, solo e folla avanti la chiesa, io guardavo come entrare. Ma c'è un sito non so chi, mi sembra che è Padre Tarciccio, ma non sapevo chi è. E questa suora ha domandato che viene una signora che prima volta ha ricevuto il passaporto, dopo non può venire la seconda volta. Come fare per vedere Santo Padre Pio? E lui mi ha detto a noi, venite al 5 al mattino a questo portoncino. E siamo arrivati al 5 al mattino, ha portato noi accanto a chiesa dove si è accanto al altar, abbastanza vicino. Se potevo osservare, Padre Pio celebrava la messa, una messa eccezionale. Nessun sacerdote, mai, mai celebrato la messa come Padre Pio. E poi posso dire anche che mai italiani non sono così silenziosi come durante questa messa. Perché normalmente parlano, diranno, non si... E' veramente silenzio. E poi la messa durava lungo, non guardavo l'orologio. Ma comunque potevo osservare Padre Pio vicino, perché sono accanto lì, altra è qui. Lui camminava con difficoltà, con qualcuno che appoggiava. E si vedeva che, dal punto di vista, sono medico, no? Vedevo che lui soffre, si vedeva che tutto passa, è un po' doloroso. Anche dopo, durante la trasfigurazione, avevo un po' di sangue che esce. Ma messa finita, Padre Pio piano piano, tornava alla sacristia, accanto di questa parte dove siamo noi, io e questa sora. E guardava, 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 ed ha detto direttamente a me, e mi ha fatto un po'. Adesso va bene. E solo in questo momento io sapevo che veramente è stato intervento suo. Perché prima io non pensavo di questo. Qualcosa è trapelato da questa intervista. La vita della dottoressa Poltavska è stata una vita di continue sofferenze. fin dall'età di 18 anni, quando fu prelevata dai nazisti e portata nel campo di concentramento di Ravensbruck, dove fu vittima di esperimenti umani. Fu utilizzata come cavia. Praticavano delle ferite nelle gambe e poi le infettavano appositamente per vedere se queste ferite poi guarivano in maniera spontanea oppure no. Dopo aver vissuto una situazione di totale mancanza di umanità nel campo di concentramento, lei ha cominciato a non credere più nell'uomo. E ha cercato in tutti i modi, attraverso una laurea in medicina e la specializzazione in psichiatria, attraverso lo studio della filosofia che l'ha portata a conoscere il marito, Andrei, filosofo, che peraltro è morto nell'ottobre del 2020 per il Covid, Covid che ha preso anche la dottoressa ma ne è guarita. Ecco, dopo aver cercato una sorta di redenzione dell'essere umano, la dottoressa l'ha trovata proprio nella paternità spirituale di Don Carol Uetiwa, che poi è diventato il suo padre spirituale per tutta la vita. Ma le sofferenze sono continuate, avete sentito nel 1967 questo intervento chirurgico negli Stati Uniti per alcuni problemi alla colonna vertebrale dovuti all'esperienza del campo di concentramento, l'esperienza del tumore nel 62, ma queste sofferenze sono aumentate. Un altro tumore si è presentato alcuni anni fa, nuovo intervento all'orecchio. ma il Covid, diciamo, ha investito tutta la famiglia, lei si è salvata ma ha avuto il dolore di perdere il marito, Andrei, con cui era sposata dal 1947. Davvero lei ha seguito padre Pio e Giovanni Paolo II sulla strada di una sofferenza accettata per amore di Dio e offerta al Signore. Ma per conoscere ancora meglio la dottoressa Poltavska ci collegheremo tra poco con Don Thomas Lubas che è stato un amico, un amico della dottoressa fin dai tempi in cui era responsabile delle edizioni San Paolo, dei libri della San Paolo in Polonia. Attualmente economo generale della San Paolo e attraverso i suoi ricordi cercheremo di capire ancora meglio chi è stata la dottoressa Vanda Poltavska. Ma facciamo una breve pausa, rimanete con noi dopo la pubblicità, ascolteremo Don Thomas. Siamo tornati in diretta e siamo collegati con la curia generale della società San Paolo dove c'è Don Thomas Lubas, attuale economo generale che però è stato, come ho detto prima, responsabile editoriale della San Paolo Libri per la Polonia per diversi anni. In questa circostanza ha conosciuto e stretto un'amicizia con la dottoressa Vanda Poltavska. Per cui la prima domanda che voglio fare a Don Thomas è un ricordo personale della dottoressa. Riguardo i ricordi personali della dottoressa Vanda Poltavska ne ho tanti perché ci conoscevamo, eravamo amici da oltre vent'anni. Uno il quale vorrei condividere con voi riguarda il giorno della canonizzazione di San Giovanni Paolo II, il 27 aprile 2014. Come alcuni sanno, qui in piazza San Pietro l'aspettava una sedia vuota perché ha deciso di passare questo giorno particolare per lei proprio nei boschi di villeggiatura in Polonia dove andavano insieme con la sua famiglia e con Giovanni Paolo II a riposare, a pregare, a meditare. E mi ha chiesto proprio di celebrare la messa in questo luogo loro amato e pregare insieme in questo giorno. Era lei, dottoressa Vanda, suo marito Angie e tre altri amici che lei ha invitato. Era veramente un'atmosfera molto bella, un'atmosfera di preghiera, di riflessione e anche di ringraziamento per la santità di Giovanni Paolo II e quando, mentre seguivamo la trasmissione, la diretta dalla piazza San Pietro, quando il Papa Francesco ha pronunciato la formula della badificazione, e il marito della dottoressa, il professor Andrea, ha detto che questo giorno è anche il giorno del compimento della nostra vita e questo è stato molto significativo. Ecco, che cosa ha rappresentato, te lo chiedo, visto che sei anche tu polacco, la dottoressa Poltavska per la Polonia ma anche per la Chiesa Universale? Per la Polonia e per la Chiesa Universale, la dottoressa Evanda Pultasca è stata senz'altro una roccia, una roccia sulla quale sempre si può costruire, una roccia che non cade mai. qualcuno e alcuni giornalisti la cosa del conservatismo che secondo loro è la stabilità dei punti di vista sulla vita, sull'aborto, sulla difesa della vita che lei non ha cambiato mai. Lei ha sempre difeso la vita e ha, ancora nel lager, ha giurato che finché sarà viva e continuerà a combattere per la difesa della vita. Forse per questo i funerali della dottoressa Pultasca, che si svolgeranno il martedì 31 ottobre 2023 a Cracovia, nella Chiesa di Maria, che è la sua parrocchia, che è situata nella piazza del mercato. Saranno funerali di Stato, parteciperà il Presidente della Repubblica, Angelo Iduda e tanti altri ufficiali che vogliono rendere omaggio per questo che è stata questa roccia, roccia di valori, roccia della difesa dei divini comandamenti e roccia anche della continuità dell'insegnamento di Giovanni Paolo II, perché lei non voleva mai parlare di lui, ma sempre voleva parlare di quello che insegnava, di quello che lui voleva inculcare nelle anime della gente, dell'anima dei pellegrini. Quando una volta la dottoressa ha detto a Giovanni Paolo II che in un pellegrinaggio estero lo seguivano tante folle, lui ha detto no, queste non sono folle, queste sono persone le quali dobbiamo salvare. Ecco, è appena uscita una biografia della dottoressa Poltavska, peraltro scritta da te, purtroppo è ancora solo in lingua polacca, non c'è ancora la versione italiana e quindi ti vogliamo chiedere se puoi anticiparci perlomeno l'episodio che ti è rimasto più impresso nel scrivere la biografia della dottoressa. Volevamo farlo per il centenario della nascita della dottoressa Vanda Poutasca e rendergli omaggio pubblicando questo libro abbastanza grosso che è intitolato o più, lottando di più della vita, qualcosa del genere, che era il titolo del suo, il titolo primo che lei ha e voleva dare alle sue memorie di Ravensbrück che sono adesso conosciute come ho paura dei miei sogni. Però questo libro è uscito soltanto in questo anno, 2023, e la dottoressa Poutasca è riuscita ancora a vederlo e anche ringraziarmi per averlo ideato perché esso non è scritto da me ma è composto da tutto quanto che ha scritto lei e ha detto riguardo la sua vita, i suoi episodi, gli episodi della sua vita. La cosa che mi ha colpito di più da questo libro è il modo in cui lei spiega la sua amicizia con San Giovanni Paolo II perché adesso dopo la morte tanti parlano di questa amicizia ma lei ci teneva tanto di dare un giusto senso, giusta genesi a questa amicizia perché in questo modo la si capisce sempre di più in modo esatto e cioè questa amicizia non era un amore a prima vista ma era una, possiamo dire, relazione che è nata dalla collaborazione, collaborazione nella difesa della vita specialmente quando nel 1956 i comunisti in Polonia hanno proclamato la legge dell'aborto, era preoccupata la dottoressa ma ne era preoccupato tanto il caro Vojteva in quel tempo e insieme aiutando alle ragazze madri a difendere la vita, aiutando a trovare qualche casa quando qualche ragazza voleva abortire e poi ha deciso di lasciare vivo il suo bambino. Loro due collaborando così ci sono conosciuti e piano piano è cresciuta questa amicizia che poi è diventata veramente grande ma anche esemplare. L'autoressa sempre diceva che non è un'amicizia che nasce da guardarsi soltanto negli occhi ma prima di tutto che nasce da una collaborazione comune proprio nel difesa della vita, nell'aiuto alla persona umana, nell'aiuto all'altra persona. Grazie Don Thomas per queste toccanti parole, ricordiamo che la dottoressa Poltavska è stata l'unica donna laica, c'era anche su Ortobiana, l'unica donna laica presente al momento in cui Giovanni Paolo II è spirato e ci auguriamo che questa biografia possa essere presto tradotta anche in italiano per permettere a tanti di conoscere la vita ma soprattutto l'esempio di questa grande donna degna figlia spirituale di un cotanto santo quale è stato Giovanni Paolo II. Grazie anche a voi amici telespettatori per averci seguito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.